Signori miei, signori miei, ennesimo colpo, ennesimo affondo della viola che ormai, posso dirlo, praticamente non stupisce più, è diventata ordinaria amministrazione, chiunque la subisce, chiunque la patisce sta squadra qua, chiunque, chiunque. Ma dall'altro lato troviamo i partenopei che si lasciano depredare i tre punti, utilizzo questo termine perché al Maradona dovrebbe esserci un fortino e invece sono proprio nel santuario di Diego Armando che il Napoli convince meno, su sei sconfitte in questo campionato cinque al Maradona. E nel momento, ancora una volta, nel momento in cui la squadra è lanciata arriva il colpo basso, arriva il colpo basso, è stata la Fiorentina di Vincenzo Italiano. E prima di partire ragazzi vi invito un attimo a fermarvi e a lasciare un like per questo signore qua, per Vincenzo Italiano. Voglio vedere quanti like, ne merita credo almeno mille, un millino, sto signore calvo ma che sicuramente non si scompone e che dal punto di vista estetico non ha nulla da invidiare agli altri. Per eleganza, perché l'ho buttata su sta roba qua che poi non ha nessun senso, ma fatto stai che poi quando inizi a sposare un credo, una filosofia calcistica, ne ammiri tutto. Anche la forma estetica della persona e la mia stima per questo allenatore è ormai alta all'inverosimile. Se volete iscrivervi anche al canale. Sì, sì, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che in Napoli questa gara l'ha approcciata anche bene. Se andate a vedere i primi 10-15 minuti ho visto una squadra che è spinta dal calore di Cass, spinta da un Maradona che è veramente, veramente colmo, saturo, che spingeva e sosteneva la squadra. Ho visto Napoli entrare prontamente in campo e ho avuto delle situazioni, ma come spesso accade si soffre un po' di vertigine. Io quest'anno più che mai lo sto notando perché poi è vero le energie fisiche senza ombra di dubbio vengono anche meno. Assolutamente sì, 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 tutto vero, però come ho ribadito ieri credo che questo mio pensiero vada esportato anche in altri contesti. Ossia la testa, la testa spinge e fa la differenza ed è mancata un po' quella, non mi spiego, altrimenti un Napoli miglior difesa che oggi cede questo scettro, lo scettro della squadra con meno reti subiti. Scala al secondo posto, oggi ne subisce addirittura tre. Tre, addirittura tre, che per carità, ripeto, dall'altra parte c'era una squadra, la Fiorentina, che attacca con tanti uomini. Se voi andate a vedere il primo gol con Biraghi che parte dietro e come al solito diventa una alla giunta, ma in mezzo non è che ci sta solo un giocatore a saltare, ce ne erano cinque, cioè erano cinque uomini in aria e la Fiorentina porta tanti, 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 tanti giocatori in aria di rigore e questo ti preme, questo ti rende più pericoloso e questo permette anche su un rinvio, su una palla sporca, su una deviazione, permette che poi alla fine se sei in tanti ad occupare l'aria, se sei in tanti ad occupare il campo, la prende chi, anche matematicamente parlando, ci sono più possibilità. Quella è matematica, non è che c'è da fare chissà quale discorso e quindi spesso e volentieri la prendevano quelli della Fiorentina. È un peccato per i partenopei il fatto che poi comunque l'abbiano ritrovato il pari, secondo me con delle soluzioni anche azzeccate da parte di Spalletti. Poi lo so come funziona, oggi magari verrà fusticato Spalletti perché se si vince sei il migliore al mondo, se perdi diventi un blocco clamoroso. Oggi invece penso che abbia fatto scelte giuste, ha levato Fabian Ruiz e ha inserito Mertens, la squadra non a casa aveva ritrovato il pari, ma proprio lì non si è bilanciata, si è portata troppo a ridosso e la Fiorentina ha punito, ha punito perché quando riparte la Fiorentina, ragazzi miei, come ho detto prima, lo fa con tanti uomini, lo fa con qualità, Nico Gonzalez oggi veramente in giornata sì, è una di quelle giornate dove era in stato di grazia, da un lato all'altro, palla appunto da un'ala all'altra, da un esterno all'altro, da destra a sinistra e manti in tilt la difesa avversaria. Farne le spese è stato più di una volta Mario Rui, Mario Rui che come al solito, come si dice spesso, dietro pecca tantissimo, con i piedi invece io credo che difficilmente sia giudicabile perché poi fornisce un assist perfetto per Rosyman, veramente perfetto al bacio, Rosyman che trova tra l'altro anche un 3-2, che gol, abbiamo visto dei gol oggi, oggi abbiamo visto dei gol, penso anche a quello di Cabral che va via all'obotica e poi sfortunatamente scivola anche, ma che giocata, come lo prepara e il destro, no? Forte, quel piatto forte, non sbaglio, la presa di piatto, giusto? O interno collo, adesso non ricordo se piatto o interno collo, forse interno collo, no, forse piatto, però gli parte talmente forte che dice no, non può essere piatto, è interno collo, forte, forte e preciso, per come è preciso di copiato, per come è forte interno collo, tanta, tanta, tanta roba, tanta roba e ripeto, la Fiorentina la qualità per farti male ce l'ha, forse sul pari doveva rimanere più accorta il Napoli, doveva rimanere equilibrato, strano e peccato, arriva il gol di Mertens che non può gioire in appieno nonostante la nascita del suo figlio, auguriamo a Uroni, a Ciro Mertens e alla sua famiglia, e gli rimane però sul groppone questo risultato. Vi è facile parlare di un Napoli che l'ha perso qualche anno fa in albergo, l'ho già sentito dire questo, lo sentirete dire, ha perso in albergo tanto tempo fa, oggi invece lo perde sul campo sempre con la Fiorentina. Io vi dico che sto campionato ancora è lungo, è vero che oggi il Napoli ha perso per l'ennesima volta una chance importante, però è anche vero che oggi giocare con la Fiorentina, è anche vero che hai perso in casa e in casa, ripeto, devi essere un fortino, e invece il Napoli in casa perde dei pezzi, perde delle sicurezze, non capisco neanche perché. È tutto vero, ma è anche vero che, ripeto, i giochi secondo me ancora non sono chiusi e oggi oltre comunque a un Napoli ci si poteva aspettare sicuramente altro, io i meriti li andrei anche a sottolineare, andrei a sottolineare anche i meriti della Fiorentina perché il Napoli non è l'unica squadra che ci ha perso, poco tempo fa ho bestemmiato io, con noi è arrivato un pari, con il Milan l'ha andata, ha vinto la Fiorentina, ha battuto l'Atalanta, l'ha messa sotto adesso l'Atalanta in termini di classifica, a meno che non abbia ripartato la partita negli ultimi due minuti l'Atalanta. Quindi è vero che quando si perde c'è sempre qualcosa che non va, ma sottolineiamo anche il lavoro di italiano, ripeto, di una squadra che ha iniziato un percorso nuovo, che è cambiata, questa è una squadra che l'anno scorso addirittura ha lottato per la salvezza e che nel giro veramente di mesi è cambiata, è stata ribaltata tatticamente e ha perso, ha perso un giocatore di davanti come Vlaovic e continua a segnare a raffica. Ripeto, mi è venuto in mente adesso che la Fiorentina abbia perso un giocatore come Vlaovic, mi è venuto in mente adesso, ma in realtà non sembrerebbe, non mi veniva in me, proprio perché all'interno di un gioco, di un collettivo e di una filosofia così ben strutturata, la perdita di un singolo e di un singolo forte come Vlaovic quasi passa sotto traccia e questa è la forza della Fiorentina di italiano, la forza è proprio questa, senza ombre di dubbio. Va bene signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, mamma mia, un grande abbraccio e ci becchiamo dopo. Ciao!